Vittoria Lazzari andrà in carcere. Qualche giorno fa ha annunciato lei stessa questa possibilità sui social, senza però spiegare nel dettaglio cosa fosse successo. Quindi eccomi per parlarvene, visto che sono coinvolto in maniera diretta nella faccenda, in quanto la persona che l'ha denunciata sono stato io. Ecco perché. Vittoria è 2007, la stessa età del mio fratello Maranza, e andavano anche nella stessa scuola, dove si sono conosciuti e hanno iniziato a frequentarsi. Anni più tardi però lei decise che voleva partecipare al collegio, così i due non si videro per qualche mese. Mio fratello in quel periodo capì che voleva abbandonare la vita da bad boy, fatta da furti e rapine. Così decise di mettersi con Lisa Lucchetta, che aveva più la testa sulle spalle. Quando lei ha scoperto questa notizia è impazzita. È venuta sotto casa mia e ha detto Io ti prometto che ci incontriremo a Milano, e io ti prometto che succederà un macello della Madonna. E vi lascio immaginare cosa è successo dopo. Fatto sta che l'ho denunciata e forse ne pagherà le conseguenze. Taggate Vittoria Lazzari per farle capire che ha esagerato. Io sono Matteo Barresi, seguimi per altri scandali.